Oggi finalmente non disegneremo, ma facciamo una bella partita Un applauso Oggi ci siamo risparmiati i disegni di Steph Il gioco è il funzione più negato in assoluto, no? Mico se città Ah, dopo uno? Tutti siamo negati qua, eh Ma vedremo Comunque ti ho sentita, eh, Fere Menomale Oggi abbiamo Caproton, Kendalz, Fere e Steffaz Stefania Ok, siamo pronti No, dai Non usate il per tutto, quello che stavamo dicendo all'inizio Ok Sono già in tilt Ne parlavamo proprio prima Esiste un colore con la I? Sì, certo che esiste Io lo so Ma è velocissimo No, l'ho messo lento Eh, ho visto Ne ho scritte due No, ma tanto ora, vedi, va di nuovo, eh Ne ho scritte tre Come va di nuovo, è finito Ah, no, forse va ancora Eh, sì, va ancora Ti fa un'azione con la I? Mi date una mano, suggerimento, per favore? Io l'ho già scritta, non te la dirò mai Oh, va bene Oh, ce l'ho, ce l'ho Mamma mia Tu per quella I? Chi c'è con la I? Eh, ce n'è uno Film Non lo so Colore con la I non esiste Oggetti Mamma mia Boh, è andata Non ho finito di scrivere Malissimo Ti ha scritto l'impalatore? Cos'è l'impalatore? Io lo schizzo l'impalatore Steph, io lo schizzo Steph Denunciate, denunciate È un lavoro normalissimo No, non è un lavoro È un lavoro normalissimo No, io non l'ho segnalato, dai Non iniziamo a cattivare C'è la gente viene impalata Ma Steph, ma che stai a dire? Certo Settecento anni fa, forse Eh, appunto Quindi è un lavoro No, era un lavoro No, siccome trovo delle nazioni in cui lo fanno ancora Cerchiamo, puoi googlare? Giusto Chi è che non l'ha scritto qui? Allora, Yann ho sbagliato Anche questo E anche l'altro Siete dei pagliacci Chi l'ha scritto? Io ho denunciato tutti Yann è giusto È in indiano A me non mi viene Non è vero È il pane in indiano Si dice così Ah, bravi A me non è venuto in mente niente Io ho messo istri Io comunque non ho denunciato il pane in indiano No, no, Carly, si è onesta Denuncia quando la parola è sbagliata Denuncia quando va denunciato L'ho scritto solo io No, l'ho scritto solo io No, io l'ho scritto Ah, noi l'abbiamo scritto Io non so neanche cosa È un colore, ragazzi È un violetto, tipo Un violetto più Io questa Io ti amo Cioè Impecilli Imola, India, Inghilterra Dai, ci sta Giusto Chi è che non l'ha messo? Io l'ho messo Se qualcuno ha messo lo stesso Tu ne vedi tre Io ho messo in Inghilterra Io ho messo in Imola E Imola l'abbiamo messo in due Allora Avete la stessa mente I Pantera È vero È vero È solo io che l'ho messo Porca miseria È vero È vero Vuoto Ah, è il vostro caro Dexter Giusto Porca miseria Questi, ragazzi Non si poteva scrivere tutto, eh Purtroppo Sì, no, no, ma va bene Però non capisco Perché uno è un po' più lungo E non un po' più corto Perché io ho scritto Anel E lì mi ha bloccato Quindi No, io sì Anch'io ho scritto Anel Ah, è vero Avevo scritto insieme Avete trovato un gioco dove sono un god? No, va bene Mi avete denunciato troppo Io non ci credo Non va bene così, ragazzi Ma neanche se scompiamo tutti i vostri punti E' arrivata a superarmi Perdita B Ok, ok Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho Aspetta che lo scrivo subito Perché mi viene boldo skate come nome? Cavolo Dovevo mettere i giochi Davvero Tori Youtuber Com'è che è scritto Porca miseria Colori con la B Eh, ci sono Non riesco a trovare la frutta e la verdura E so che c'è Mi sento inefficiente Dai, ma stai scherzando, Steph Ve lo giuro Ma come, Steph Ma veramente fai Ve lo giuro Ah, sì Quella che piace a Kendall Professioni con la B Dai, zitti Eh, niente Attori e animali Io non mi viene Ce l'ho Sì Non mi viene Ho sbagliato a scrivere la U finale Eh Io sto per segnalargliela No, no, no Ragazzi È stato un misclick Un misclick Fuoriù Un misclick Non conosco adesso il suo lavoro Che finisce con fuoriù Dai, che fagliacci Eh, questo non arriva Non ho messo niente Io Non ne hai messo niente? No, mi veniva nulla Come non ti è venito nulla? Mi veniva Baldur's Gate Non so Va bene Abbiamo messo tutti Lo stesso nome A me non piace Barbara come nome L'ho messo io Cos'è Bar 4? Cos'è Bar 4? È B-Movie, bravo È un film d'azione B-Movie l'ho messo io È un film Bravissima Ma cos'è Bar 4? Cos'è Bar 4? Non è No, no, denunciatelo Non è vero Denunciatelo Non è visto È Carli che È Carli che imbroglia È un film d'azione Ma chi ha scritto Banana nei colori Oh, ma siete scemi L'ha scritto Carli di nuovo Carli ma sei in serio? È il giallo banana È il giallo banana No Mi fa ridere la precisione È blu cobalto Che è Bob Bob non esiste Ma raga Non avete scritto tutti Bella faccia Ma come è possibile? No, ma Bob Guarda che è un famosissimo Youtuber americano Cioè Meno male è andata Canzoni L'avete denunciato Bellingham? Ma ragazze No Perché è un calciatore E io vi ho truffato Ma che cavolo Ti sapevamo? Che cosa ne so? Che cosa ne so? Ma esistono ste canzoni? Sì Io nella see yourself Ho utilizzato la tua stessa tecnica Ma ho visto che esiste Esiste Non ti veniva in mente la banana? E poi ho pensato A che andare in mente Parola in inglese Banana Banana da denunciare No, no Banana si C'è anche in inglese Ragazzi Però ha ragione Purtroppo Ha ragione Si può denunciare Oh a me non è venuto Bambi non è un animale Bambi non è un animale Certo Infatti Bambi non è un animale Carly Ma Carly che ha combinato sto round? Cioè zero punti lei No Bambi è un animale Scusate Chi ha scritto Brad Carly Palese Io l'ho scritto Si scrive Brad Lo so bene Scusate Vabbè però vale Brad Ti ho denunciato Io ti ho denunciato Perché non si può scrivere Brad Brad Scusate Ma come va ad essere Come ho fatto a fare 75 punti Carly Tutte le hanno fatto 75 No io ho fatto 75 Ma c'è qualcosa che non sta funzionando Ma c'è qualcosa che non va a Carly Le ha barate tutte Non ha senso Non mi sono denunciata Ma sei veramente una maledetta Bene ora ridiamo Ok Professioni con la T Eh Eh No Stef Non mi viene Passiamo alla prossima Film con la T Youtuber con la T Non lo so Dai si strano Sette seri Ce n'è uno che conosciamo Sette seri Chi? Ah Vabbè ma io non mi ho mai chiamato in quel modo Tamara Teresa e Tommy Ok questi sono giusti Tamara però L'ho scritto io Esiste Tamara Una mia compagno Tartuffaio non è No no è chi va a tartufo il tartuffaio Eh però ha ragione mi sa Non si chiama tartuffaio Non si chiama tartuffaio no Tartuffiere? Forse Tartuffiere Esiste il tartuffaio Cos'è il tamarino ragazzi? Il tamarino è un animale Chi me l'ha contestato? Cos'è il tamarino? Eh spiegate che cos'è È tipo una specie Raga ma il tortura non è un animale Certo La tortura sia un animale C'è scemo Il tortura ha detto Eh ma è il colore il tortura Eh lo sai è un colore Ma è anche un animale Allora chi è stato il genio Che ha messo The Lord of the King? Io Anch'io l'ho messo E vale Vale Così imparate a usare gli articoli Cos'è il tamarino di nuovo? Mi state prendendo Il tarallo Il tarallo Il tarallo Il tarallo Dai ragazzi il tavarino è da tutte le parti Ti segnalate il tarallo Il tarallo Non segnare il tarallo Maledetta Sì L'avete segnare Raga basta ti amo o lo denuncio? Hai lo stile Basta Cioè potete mettere the end Io non ho messo canzoni Pensate a te Non mi vengono i titoli Trust Trust non esiste secondo me Poi capito Stanno anche seri E hanno scritto tamarino ovunque Io spero che avessi denunciato il tarallo Io l'ho denunciato Maledetta Lascia in faccia il tarallo Petro non è venuta Petro fu denuncia Fu denuncia Petro non è un colore Petro non è un colore È un mood Qua va tutto bene Qua va tutto bene Per una volta Petro non è un oggetto Io spero che voi Abbiate denunciato il tarallo Il muro è un oggetto Ma il tetto è un oggetto Il muro è un oggetto Il muro è un oggetto Sapientino Denunciato Sapientino Tend E tent con la t Ignorante Denuncia tend Io non l'ho scritto Io ho scritto test Quindi Carli Io lo denuncio Non l'ho denunciato Non l'ho denunciato L'abbiamo lasciato Ah giusto Giusto Bravi The Rock Io ho messo The Rock Bravi E loro mi sa che niente Io non ho messo niente Io non ho messo niente Io non ho capito Perché Carli E il tarallo Lo fanno tutti sti No 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 Io non l'ho parato Il tarallo di Steffus Io non l'ho parato Lo fa scalare Sì cara Tu sei la Bugiardi Bugiardi No 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 Aspetta aspetta Già ce l'ho Già ce l'ho Aspetta Uno Fate i seri adesso Cittoni Questo esiste Tutti Tutti Ho messo anch'io Ah ok anch'io Non è che ce ne sono molti altri Come fate a conoscere Zanzibar Cos'è Zeo Zeo è ancora mia Zeo è ancora mia È fake Ma anche Zeo che cos'è Anche Zanzande Sono tutte da denunciare No dai Come che fai Io è una canzone Ma sei zitto Sì Cos'è Benunciato Benunciato Cos'è Zor Ma l'hai messo tu Cosa dici cos'è Non l'ho messo io L'ho messo Stef allora Ma io l'ho messo Zaino Ok Meno male Uno legit Ce l'abbiamo fatta Esatto Che ha detto Zendaya Zendaya non è una youtuber Sì è nata su YouTube E poi è stata scoperta da Disney Sei sicuro Sì no è vero Secondo me non è vero Zendaya non è vero Zendaya esiste Chi è Zendaya esiste Denunciato Dai Non l'ho fatto in tempo Era il mio blef Vedi che non esiste Non potete saperlo C'è mille subscriber poverino Ma a tuorizzorro raga Per favore Questo è tutto Stef No Allora ragazzi Se Stef Gliele denunciamo tutte Come fa ad avere 200 punti? Non lo so Non lo so Ti piace Guarda Adesso Stef Ti hai fatto andare male Oh ma la fa po' Sta questa Mi hai inventato Sei ultima E stai rosicando Perché l'ho fatto legit Easy Easy Sono i due No dai U? 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 Con la U Esisteranno per forza Sicuramente Mamma mia Professioni con Esisterò da qualche parte del mondo Sì che esiste un oggetto Ce l'ho Mamma mia troppo forte Youtuber con la U? Ciao a tutti ragazzi Io sono U Io sono U U? Sì che si fa Con la U Ok 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 Bravi Bene Ragazzi Cioè io davvero non mi sopporto più Chi l'ha messo? Stef sicuro No è da Carly U? 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 Io nessuno Dai una a tutti Io nessuno Ma che cos'è? Ma dove? È sempre Carly Fa ridere che mi avete fatto passare Umpa Loompa No quella è È la canzone di Umpa Loompa Non si scrive così Sempre scriverà così Ecco gli oggetti Ecco Non è L'olivo non è un oggetto Non è un oggetto Sì Ragazzi no Sì L'olivo è una pianta E la l'olivo non è un oggetto No è un oggetto È un oggetto non identificato Certo che è un oggetto È un oggetto È identificato Chi è un oggetto Esiste Cercate su Youtube Esiste unico Cercate su Youtube Prima della denuncia Cercate Cercate Esiste Esiste Ugo Ursula Io non ho messo niente Io ho messo Ursula Anche ho messo Ursula E chi ha messo Ugo Io non ho messo Non mi ricordo Cos'è di nuovo unico L'usuraio non ha lavoro Ma è scritto unico In tutte le frizioni Ragazzi l'usuraio È quello che usura È un lavoro illegale Però è una professione Non è riconosciuta Non c'è scritto professioni illegali Non c'è nel codice Udine Uganda A posto U E Ognuno ne esiste No no Ragazzi è un film famoso Napoletano L'ultimo bacio esiste? Certo Ok Però è l'ultimo bacio No no Aia Va bene Dai Quando volete Gli articoli hanno senso Totalmente Questo è sbagliato Raga Verso random Jackman Ugo 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 Uombat 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 Dai c'era uccello Ragazzi Sì seri Non è venuto in mente Ma è Sussignolo Ma in Uombat esiste? Ma non si scrive così No quello è il bombato È il bombato Con la U Ma Borogno si scrive così Carli per silenzio 25 punti Ma tu scrive Bombato Ed ecco L'animale è bellissimo australiano No vi prego No 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 Facilissimo Sì Mettine un nuovo albero Come oggetto Stef Allora Oh vedi I colori non mi veniva Bravi Sono andata in tilt Non mi veniva proprio Gli ho scritte tutte Tranne tipo colori e film Ok 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 Qua io non ho messo Ironiana Tramatro Qualcosa non esiste Ragazzi Nel deserto C'è Sì Va bene Va bene Carli è stata nel deserto È la punta Questo insetto La style Famosissimo Sì sì Lo conosciamo tutti È pericoloso Quale abbiamo tutte inventate Angel è di Robbie Williams Sono onesto Quindi io l'ho messa Di Robbie Williams Davvero almeno Dai ancora noi Amore mio No no Ancora noi Guarda che c'è Guarda che anche Amore mio esisteranno Sì ma Amore mio esisteranno 25 Cioè alla fine È una buona strategia Chi è Angel di nuovo Dai Abbatantuono Sì che Abbatantuono Ok Chi è Abbatantuono Chi è Angel Come chi è Ma chi è Angel Sei Marta È famosissimo Amacatomo Abaco Almanacco Cos'è un Abaco È quello dove conti In matematica Come fai Non è che cos'è Abaco Sai Io non l'ho pensato Ok Nessuno Alessandro Bravi Ma è cavolo vero Nienche te stesso Che tu ne vedi Nienche tu Che lo stai messo È invece Sì Amore mio Lascia Amore mio Lascia vino E anche Avete rotto le palle Con i film sugli angeli Ragazzi ma Amore mio Lascia mio È un film famosissimo È un cult L'ho messo io Le Avengers Amore mio Lascia mio No È un cult americano Il sequel di Fabricante A cercare di youtuber Band No No cosa Cosa no Non riesce Non manca a parlare Per difendersi Da quanto è pagliata Solo no Almeria Almeria È una città della Spagna Google Almeria Almeria Googleate Ma perché non Algeria Ad esempio È perché giocando a calcio Mi viene in mente L'Almeria Che gioca nel campionato spagnolo Che te devo dire Stavo per segnalarla Anguria giusti Tutto giusto Agaian Agaian Vabbè Volevi scrivere again Sì Dai ok Che mamma Stupidi che siete Oh Come ultimo Ma che mi avete bannato Oh io guarda che ne ho bannate pochi Io Io Dai Amore mio Lasciami ragazzi È un cazzo Come ha fatto Carli A far più di Non lo so One eternity Later Bene Ultimo round Chi vince questa Sto durando un'idea Esatto Sto durando 45 anni Non sapevo che durasse così tanto Non pensavo fossero Tante C Ah la C Oh Ah Ah Carli Giaccherini Solti Sentimento delle cretinate Oh Castano Il castano non è Boh vabbè Color castano I capelli castani Più o meno dai Più o meno Cos'è cad? Cos'è cad? Cos'è cad? Ragazzi Cos'è cad? Cad è la città statunitese Chi ha messo cartanissetta di voi? Io Cos'è car Ragazzi Carli ma che stai combinando? No car non l'ho messo io Io ho messo coriandolo Ha messo carli L'ha messo carli Io ho messo cavolo No io ho messo coriandolo In frutte e verdura No io forse L'ho messo io forse Chi ha messo carli? Forse io C'è la corvo cricetta Eh Bravi 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 Una volta Che bravi bambini C'è ancora amore? Basta Mi avete noto E anche corri nel vento Corri Corri nel vento Cioè Che cos'è? Ragazzi Calpestami ancora Ok Comunque nei film Nelle canzoni C Eh ho sbagliato Hai cliccato lo stop Stavo scrivendo Cantami qualcosa Cantami ancora Cule Mi fa male la gola Cule and fresh Ho fame dalle risate Ho fame dalle risate Come si fa male Che che ha fame dalle risate? Non rido troppo Se si muore dal ridere La fame dalle risate Ok è tutto giusto Corriandolo riciclato Mi sembra un po' Che città Vabbè perché ci sono anche i coriandoli Ma quelli sono i coriandoli No Però il singolare qual è? Vabbè ma è minuscolo Chi è? Charlotte chi è ragazzi? Charlotte non esiste E neanche Car E' un'attrice svedese Charlotte E' un'attrice svedese Charlotte E' un'attrice svedese Perché avete messo Carlo Che stavo scrivendo Carlo Avete fatto stop Ok ok Allora denuncio almeno questa Cocco melon Davvero Io ho messo Carlo Solo io l'ho messo Io ho messo Carlo Io ho messo Carlo Anch'io ho messo Carlo Ma come ultimo Eh ragazzi E' il momento della Verdad Ha vinto a fare Denunciando tutto Alterare non poco Guarda Come spassificato Rubata Beh ragazzi Allora per me Dovete farvi un po' Di cultura sui film Cantami qualcosa Colmi nel vento Sto durando due ore Ciao Ciao Ciao